C'è scritto New Recipe, però i gelati esistono da circa prima dell'invenzione della ruota. Ma chissà li ricorda, quindi l'assaggio volentieri. Quello bianco no, perché a me il cioccolato bianco fa schifo, a parte il Gavac. Partiamo subito, vuol dire che è il cornetto più piccolo che abbia mai visto, dopo i Mignon. E non ho mai capito il senso dei Mignon, io. Brutto è brutto. Se va anche il buono. La parte sopra è davvero un Kinder Buea, troppo buona. Vediamo che non sia la parte migliore, visto che finisce subito. È davvero buona. Bravi, bravi. Avete voluto una cosa buona. Allora. Il gelato è tipo la nocciola, però è diversa. Non è proprio nocciola. Ma forse sa di chiedere buono, va lontana. È buono, però ovviamente la parte migliore è la cioccolatina sopra. Forse ce n'è ancora detto. Vedo un punto sospetto molto duro. Sì, c'è una roba che non so cos'è, ma è buona al centro. Questa roba qui, per capirci. È buona, però non è entusiasmante. A parte con la cosina sopra, gli diamo un 6. Se non ci fosse stata con la cosina sopra, avrete detto che è un gelato di merda. Non so se sto invecchiando io, o se sta roba fa sempre più cagare, raga. La roba dura al centro è buona, ma deludente, perché non è niente di che. Però, il carnetto è super croccante, bravi. E non è banale. Però, questo è tutto cioccolato. Una signora punta. Cioccolato anonimo, ma il cioccolato. Devo dire, il cioccolato anonimo, ma il meglio del solito. Insomma, gli darei un 6, 6 e mezzo, e non li comprerai. Il bianco, non me lo chiedete, non me lo mangio. No, no, è inutile che insisti. Il bianco non me lo mangio. Del bianco non mi lo mangio. Grazie a tutti.